Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video su Dragon Ball Legends Oggi, finalmente, con la prima giornata di anniversario Prima di iniziare col video però, vi invito già da adesso a lasciare un bel like Mi raccomando, se volete una copertura incredibile per quanto riguarda questo anniversario Soprattutto, vi ricordo che ci saranno con tutta probabilità anche delle pull in live Quindi mi raccomando, assicuratevi di seguirmi, di attivare il follow sul mio canale Twitch Trovate il link in descrizione e soprattutto attivate anche la campanella sia qui che lì Perché ovviamente quando vado in live vi arriva subito la notifica e potete gioinare Probabilmente ci vediamo questa sera per pullare, quindi non mancate, non mancate Detto questo, ma non è che hanno fatto qualche regalino? Vediamo un attimo Ah, ok, 111, ma dai quanta energia? Ok, ma... Crono Crystals? Niente Crono Crystals, va bene Detto questo, portiamoci subito nelle summon, i banner sono attivi Già li ho visti, già ho avuto modo di vederli A parte le unit featured fanno un bel po' sboccare, va detto Perché praticamente ci sono soltanto le unit nuove come featured poi basta Cioè il banner è pieno di roba brutta, diciamolo Per il resto niente, io direi che possiamo iniziare Allora, il personaggio che io punto di più in assoluto, manco a dirlo, è Gogeta Super Saiyan di quarto livello Ma, visto che da Zamasu abbiamo lui che è comunque interessantissimo Ma abbiamo quei Vegito e Kevla che sono veramente pazzeschi, sono molto molto belli Sapete che potremmo iniziare proprio da loro, potremmo comunque dedicare questo primo video a loro E magari stasera poliamo da Gogeta, vediamo un pochino Vai, partiamo da Zamasu Partiamo da Zamasu, speriamo che ci porti bene Anche se la cosa che io volevo fare in realtà era Chiudere il prima possibile da Gogeta Oddio, chiudere fra virgolette, perché può essere proprio che non troviamo proprio niente Non lo troviamo Però la cosa top sarebbe chiudere quanto prima da Gogeta Nel senso trovare Gogeta fine E poi spostarci sul banner di Zamasu e lì rimanere un po' di più Magari Che nel mentre cerchiamo Zamasu possiamo anche provare a stellare uno fra Vegito, Kevla Insomma, in questo senso Detto questo, subito incredibile inizio con un'animazione pazzesca oserei dire Probabilmente questa qui è già la prima multi totalmente andata male E chi inizia piano Va sano e va lontano O chi inizia male Non lo so, concludete voi Subito fake out, incredibile, impressionante Dammi subito la prima nuova E non mi dà la prima nuova, va benissimo No, stai tranquillo Legends Volevo proprio questo trance Mi si mozza parte della testa, va bene Allora, va benissimo, benissimo, benissimo Prima multi con sparking dentro Nazzo zimma, però comunque Pur sempre che non ha sparking Detto questo, seconda multi Sempre da Zamasu Vegito Kevla Vegito Kevla Zamasu poi se ce lo vuoi dare Mi faresti un grosso favore onestamente Visto che è la LF di turno, però Anche se questo banner Adesso me la sto per tirare Attenzione Me la sto per tirare io stesso addosso Però questo banner In realtà entrambi sono abbastanza pericolosi Per quanto riguardano Per quanto riguarda le LF Oltre le due nuove A parte Gokul 3 Stinto Non mi ricordo su quale Su Gogeta se non sbaglio E Gogeta Blue Da Zamasu Loro onestamente mi farebbero Farebbero un minimo comodo Indubbiamente Detto questo Forse è più Gogeta Perché Gokul 3 Stinto Ce l'ho già a tre stelle Però con la multi Zeta Power Da 100 Che die di tempo fa Vediamo Cell Va bene Fin quando mi dai Questi sparking Così unfeatured Ma di questo livello A me Più o meno Ancora ancora Può andar bene Va bene Seconda multi Andata Malino No No vabbè Nella media Abbiamo comunque trovato Due sparking Una almeno buona Ah raga Fatemi sapere pure Se vi piace un attimino Sta grafichetta nuova Speriamo non porti male Perché Boh Vai Appena ho parlato Speriamo non porti male Boom Gokul chiampo alle botte Vediamo Ok Clash nel mezzo E non succede Minimamente nulla Aspetta Questa cos'è Spark Extreme Extreme superiori Comunque non ve lo volevo dire Ma c'ho brutte sensazioni Ragazzi Ce l'ho Da qualche giorno No non è Extreme superiori Ho capito Vados Va bene Comunque Buonissimo livello Di sparking Quindi ancora ancora Ci può stare Ok Trunks Allora Devo notare una cosa Aspettate Devo assolutamente Notare una cosa Avevo letto Ma secondo me È una fesseria Questa qui Avevo letto Che quando All'interno di una multi D'ora in poi Ribadisco Probabilmente È una fesseria E soprattutto Non la sto dicendo io Sto dicendo che L'ho letta Mi raccomando Avevo letto Che quando C'è all'interno Di una multi Una nuova unità Non si può schippare Tipo Non te la fa schippare Vediamo Facciamoci caso A sta cosa Oltretutto Teniamo conto Delle cc Che stiamo utilizzando Va bene Sempre ce l'ho verde Almeno 5 pods Allora Qui lo skip ce l'ho Va bene Facciamoci caso Ixuo Laigoku Ixuo Ixuo Guarda Per questo primo video Per questo primo giro Io Mi accontenterei anche di Vegito Kefla Uno fra Vegito E Kefla Già di questi mi accontenterei Te lo dico Questo primo giro Ok Super Bu Va poi vai Allora Lo skip lì sopra c'è In alto a destra In teoria Se È confermata Quella cosa che avevo letto Infatti Non c'è Alcuna unità nuova Vediamola Sta cosa Raga Veramente so curiosissimo Vi dico la verità Fatemi vedere un attimo Però Se abbiamo subito Da poter spendere Il ticket No 4 su 5 Ok Ci abbiamo praticamente La chiusura del giro Perfetto Chiusura del giro Subito 1000 cc Ci dà però Due ticket Va bene Ok C'è lo rosso 3 pod Super saiyan Va bene Va bene Tra l'altro Che tristezza Perché ho dovuto Abbassare a 0 Il volume della musica Visto che con tutta probabilità Mi avrebbe dato Copyright Qui su youtube Quindi Nulla Avrò probabilmente Messo qualche altra Qualc'altra soundtrack Sotto Sotto queste pool Peccato Peccato Mi sarebbe piaciuto Tenervi La canzoncina di GT Però Purtroppo Raga Poco da fare Primo giro Vuotissimo Vuotissimo Di Almeno Manco Sparking Nuove Cioè Proprio 0 0 Spaccato Al momento C'è lo skip Lì sopra Quindi 0 0 0 Spaccatissimo Va bene Va bene così Va bene così Noi continuiamo Ovviamente Però Prima andiamo ad aprirci Un attimo Questo ticket Andiamo ad aprirci Questo ticket Voglio solo vedere I rate Giusto per sfizio 5% 12% 12% Minchia Allora ci sono Dei rate Molto alti Per quanto riguarda Le nuove sparking Sono alti Dai Dai Di che tozzo Guarda No Non skip Non skip Aspettate Non skip Perché Non si sa mai Facciamola un attimo Andare Questa Questa Vabbè Mi sa che la mo la skippo proprio Ah perché c'è stata Skippa più che tanto Ah vabbè Volevi far fake out Addirittura Vediamo Oh Almeno Dai Vegitone Vegitone Supasaiajin Supasai Vabbè Avete capito Insomma Vegito Almeno Almeno Una sparking Nuova portata Almeno da un ticket Quindi Grazie ticket Buoni con questi rate Dei ticket Non sono male Continuo un attimo Continuo un attimo Da Zamasu Anche se ci abbiamo Vegito quindi Buono Vediamo se riusciamo a portarci Anche a casa Keflamaga C'è posto sta C'è posto sta Sfruttiamola bene Quest'animation Sfruttiamola bene La stiamo sfruttando bene State ve fermi State ve fermi State ve fermi Che la stiamo sfruttando bene No aspetta Aspetta Non è detto Potremmo sfruttarla Benissimo però Demi di sei per favore Zamasu 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 Cogetta blu Zamasu Cogetta blu E per favore Fammi usci pure dentro Una bella Kefl La bella Kefl L'abbiamo chiud Dai 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 Vi giuro Non me l'aspettavo Non so perché Avevo flashato Zamasu Forse è stato quel Viola Va bene Basil Prima sparking Giocata Però c'è una LF Qui dentro Anche se ragazzi C'è tanta roba Che me ne serve proprio Beh la sto chiamando Me la sto tirando Freezer LF Lo sapete che era All'interno Comunque del pool Delle LF Che un minimo Mi interessavano Perché questo qui Non ce l'ho minimamente stellato Va bene dai Me lo posso tenere Me lo posso tenere Me lo posso tenere Sto Freezer Oh Goku Black Extreme C'è lo skip Lì sopra Ragazzi Secondo me è una fesseria Proprio Quella roba Ma che è Due Abbiamo trovato Eh ma doi Va bene Due Extreme 9 Vabbè Tutto Tutto il casino Freezer praticamente Portato a 3 stelle Freezer portato a 3 stelle Peccato Una Una Brawl Animation Buttata un attimino Lì Lì Insomma Buttata lì Detto questo Continuiamo Per il momento Abbiamo speso 6000 crono Più o meno 6000 è qualcosina crono Sì Mi pare di essere partito A 65 8 Non 66 8 Non mi ricordo Lo sapete Non lo ricordo proprio Ad inizio video Devo controllare Andiamo Mamma mia Quanto ci ricapita Una braw animation Però Oh però almeno C'ho il titolo Brawl Animation Vai Top Le cose importanti Freezer LF C'è lo skip Lì sopra No io Continuo sto video Fino a quando Non mi esce All'interno di una multi Uno fra Zamasu Vegito Kefla E c'è Devo capire Sta roba Dello skip Se scompare o meno Ma dove Dai Abbiamo sta roba Di mezzo Ma per favore Va bene Però Fermi Voglio fare una cosa Voglio fare solo una cosa Per il meme Per il meme Allora Guardate per il meme Cosa facciamo adesso Chidatevi di me Prima multi da Gogeta Troviamo Gogeta Per il meme Prima multi da Gogeta Troviamo Gogeta C'è lo rosso 5 pod Vegeta Ci chiama la sparking Ecco qui Gogeta Vabbè Comunque uno nuovo Buono Comunque Ischeron Era Fra i due nuovi E forse quello Che mi serviva Un attimino di più Perché il giallo Per GT Ce lo abbiamo Ed è quella LF proprio Ed è quel Goku LF Che almeno Potremmo Minimo Minimo Sfruttare In caso di Gogeta Va bene No 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 Allora Non è uscito Gogeta Cioè Gogeta comunque è uscito Attenzione Prima multi Gogeta Però Non proprio quello che volevamo Insomma Diciamo Detto questo Vai Continuiamo ancora da Zamasu Vediamo se riusciamo a trovare sta Kefla Entro fine giro E poi stacchiamo qui Dai Vediamo Cielo verde Tre pod Bellissime Però Belle 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 Mi gustano Guarda Belle No Belle Bellissimo Per il momento Wow Allora Diciamo Per il momento Non ci sta dicendo Troppo 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 Bene Perché alla fine abbiamo trovato solo un Vegito Dei nuvi E E vabbè Freezer LF Tre stelle Ma lì Purtroppo Il rischio è alto Il rischio è alto Di trovare Roba Oddio Eppure siamo andati bene con Freezer Ribadisco Questo è fake out Vediamo Kefla Kefla Va bene Dai Va bene Ci abbiamo almeno Due nuvi Bellissimo quel Goku Là dietro Ma bello Bello Ci abbiamo almeno i due nuvi Va bene E io a questo punto Direi anche Che noi Un minimo possiamo spostarci Sul banner di Gogeta Per provare a cercare lui E poi ci spostiamo Magari Se riusciamo a scularlo Ci spostiamo nel banner di Zamasu Detto questo Continuiamo un attimo Siamo già quasi a 10k spese Primo video Cielo rosso 5 pod Goku non si trasforma Vediamo Vediamo Va benissimo Vai Ok Cielo rosso 5 pod Non ci ho fatto caso di nuovo Se c'era Kefla o meno Allora lo skip Era scomparso Lì sopra Ma perché Comunque c'è stato il fake out Attenzione Però durante la multi c'era Non sbaglio Vabbè C'è regà Vi rendete conto Che sto facendo sta roba Per tutte le multi Skip Non skip Skip Non skip Vabbè 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 Se mi da Zamasu niente Mi da Zamasu niente Perché comunque Kefla e Vegito Sono praticamente Due stelle entrambi Vediamo Va bene Va bene Dai Possiamo già saltare Vediamo Eh Omega number one Da non c'è Ce posso stare Ce posso stare Ce posso stare Sette stelle Va bene Fermi Voglio solo un minimo Un minimo Adesso andare un attimo Da Gugitada Da Gogetone Vediamo Se ci porta bene Questa incredibile multi Vediamo Esprimo il mio desiderio L'ho espresso L'ho espresso Non si dice cosa ho espresso Però l'ho espresso Lo fa Che sta multi Dragoscer Tutti con te siamo Siamo tutti con te Vai Dragoscer Vai Dragoscer Che non vuoi dire nulla Però Dai Dicci che Dicci che Tengo d'occhio lo skip In alto a destra Tengo d'occhio lo skip In alto a destra No è schippabile Ok per l'appunto Va bene Ok 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 Non sei il GT Che volevamo Onestamente Ok Ritando e scherzando Porca mia Altro che Sto a fare Un bordello di Multi Per sto primo video Topepai 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 non vuol dire Fiturid mi pare Era solo la nuvoletta il Fiturid Vabbè Goku grazie Grazie mille Allora vediamo Sparking schippabile Vegeta ok Vediamo Ok Sparking non schippabile No ma Sharon è vero Quando è la nuova unità non è schippabile Allora era questo Era questo La nuova unità non è schippabile Allora tutta la multi si è schippabile Ma la nuova unit Infatti non è nuova E vabbè sta cosa però un pochino mi Vabbè la nuova unit praticamente si può schippare quando esce lì Oh ho avuto la risposta finalmente caspita Eh mannaia la miseria Almeno sta multi è servita a qualcosa Allora abbiamo praticamente tutti i nuovi personaggi anniversario Tranne le due LF Va bene Regà sapete che vi dico Vediamoci pure sto giro da Gogeta Cioè abbiamo pure il ticchettozzo Perché io se riesco a trovare Gogeta regà Eh Noi andiamo solo da Zamasu e basta voi Skip Ok 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 Vabbè ti sei già capito sta multi dove vuole andare a parare Ok 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 Va bene Va bene Va bene Va bene Nada va bene Vai Ultimissima multi Poi ticket E chiudiamo qui E poi regà ci vediamo direttamente stasera con tutta probabilità Per continuare a pullare Probabilmente pulleremo da Gogeta Da Gogeta In modo da chiudere Si spera Guarda se chiudiamo mo Gioco ti dico Ti Se chiudiamo mo Me smutando il live stasera No forse si forse si Me bagno Vai Vale No mi sa che non chiudiamo qui Va bene va bene va bene Vediamo vediamo comunque Guarda se mi dai già pure qualche piccola stellina Per Kevla e Vegito Ci potrebbe stare Ne guadagnano gli Showcase Allora Ok 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 Skippabile quindi in teoria Ok Allora quando l'unità non ce l'hai Allora Se non hai l'unità Ok Ok va bene Se l'unità non ce l'hai Non è skippabile Se l'unità ce l'hai È skippabile Va bene va bene Abbiamo capito anche quest'altra cosa Bene Quando vediamo lì sopra Skip Può essere sparking Tu quello che volete Non è Gogeta Perché ormai ci abbiamo tutto Ci abbiamo i due draghi Ci abbiamo Kevla Vegito Ci abbiamo tutto Va bene Mutant a tre stelle Non che mi Interessasse più di tanto Ma va bene Detto questo Regà Di che tozzo Pazzo sgravato da Gogeta Dammi Gogeta qui E ce ne andiamo Dammi Gogeta qui E ce ne andiamo tutti Te lo dico Skip Toppo Toppo Ci può stare Ci può stare Ci può stare Ma Per il meme Ecco qua Cominciamo a fare Le multi infiniti Del video pull infinito Per il meme Per il memazzo assoluto Io voglio Regà ma è stata pullata Gogeta E stavo a di Stelle di Vegito Kevla Ma che Sono pazzito Sfere del drago Sfere del drago Fermi Dragon Balls Vediamo Fermi Fermatevi tutti Vai 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 che mi Vai non voglio di nulla Vai non voglio di nulla Ma comunque mi blocca proprio mentalmente Mo' sta cosa dello skip ragazzi ve lo dico Mi sta bloccando proprio mentalmente E infatti per l'appunto Va bene Nova Sharon Va benissimo Cioè no non va benissimo Perché proprio i draghi Soprattutto stellare i draghi Vorrei stellare Vegito e Kefla Solo che stanno dall'altra parte Quindi non li posso stellare Vabbè I draghi comunque sono quelli lì Che probabilmente stelleremo di più Ve lo dico Quindi preparatevi Va bene va bene va bene Pazza sgravata da Zamasu Pazza sgravata da Zamasu Vai Pazza sgravata da Zamasu Uno fra Vegito e Kefla Ve lo dico Questa è buona sta multi 3 pod 3 pod cielo verde Proprio buonissima questa qui Skippata totalmente Era proprio buonissima questa Veramente guarda Bella 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 Pazzissima sgravata da Zamasu Regà la potevo staccare Basta Sto video dura una vita E non va bene A me sta piglia in giro A me sta piglia in giro Per caso Regà Gogeta di nuovo Gogeta di nuovo Vai 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 Da Zamasu non ci siamo Da Zamasu non ci siamo per nulla qua Non ci siamo Zamasu mi stai deludendo Porca mi stai deludendo Un'altra volta ce lo verde 3 pod Mamma mia ho visto quel new là sopra Ho detto che è Chi ho trovato Poi ho visto capelli blu Ho detto ecco qui Vegito No ma che Vegito Che sto pullando la Gogeta Regà un bordello Sto a fare un casino Nel video di oggi Incredibile Namek 5 Skip tutto Goku Super Saiyan 4 Regà non mi riesco a fermare Non ce la faccio Mi devo fermare però Sta andando male Quanti ticket ci abbiamo? Dai ci chiudiamo solo questo 4-5 4-5 Vai Zamasu 1 vai Gogeta 4-5 E poi va bene così E intanto Sono già partite Le prime 20k Mi sa Le prime 20k Mamma mia Mamma mia che bruttezza Mamma mia che bruttezza Meno male che sto schippa tutto Qui perché altrimenti Perdevamo solo un bordello di tempo A vuoto A vuoto totalmente Vai Ultima E poi raga Ci vediamo direttamente stasera E proviamo a pullare Dai 5 po' Nuova unità Nuova unità Nuova unità Nuova unità Chiudo gli occhi Chiudo gli occhi Non la voglio guardare È da Gogeta Quindi vabbè Potrebbe essere uno dei draghi Dai Dammi Gogeta per il meme Per chiudere È il drago Va bene Dai No va scerro Ragazzi Allora Chiudiamo qui Va bene Io direi che ci possiamo vedere Questa sera Mi raccomando Non mancate Vi aspetto Perché si Si continua un minimo a pullare E continuo anche io a pullare qui Dicevo si continua un minimo a pullare Detto questo Vi invito già a lasciare un mi piace Mi raccomando Schippabile Cos'era Va bene Ragazzi ci vediamo questa sera Attimamente non mi fermo più qui Ci vediamo stasera Vado già a mettermi all'opera Per Insomma portare su Egito Kevla e tutto il resto Vi aspetto Mi raccomando A questa sera Ciao ragazzoli Vi aspetto su Twitch Link in descrizione Ciao